Andrew Philip Cunanan, luogo omicidi, Stati Uniti, periodo omicidi, 1997, numero vittime, 5, modus operandi, imprecisato ed estemporaneo. Alcuni criminologi non considerano Cunanan un vero e proprio serial killer, ma piuttosto uno spree killer. Catture e provvedimenti. Si suicidò con un colpo di pistola dopo aver commesso l'ultimo omicidio. Andrew Philip Cunanan nasce a Rancho Bernardo, grande quartiere di San Diego, in California, il 31 agosto 1969. Era il più giovane di quattro figli e possedeva qualità tali da far sperare in un futuro di successi. Una solida cultura, una memoria strepitosa, un aspetto attraente e un fascino naturale. La madre racconta che il figlio leggeva la Bibbia a sei anni, il padre, ex uomo della Marina, descrive suo figlio con l'appellativo di Chierichetto. Frequenta la scuola di Elite Bishop School a Laiola, facendosi notare per una certa fiera ostentazione di omosessualità e per una ricerca quasi ossessiva di attenzione e notorietà. Posando per un album fotografico della scuola come modello di Calvin Klein, nel vestiario eccentrico e atto a mettere in mostra un fisico molto piacevole, Cunanan sembrava determinato a emergere, a distinguersi in qualche modo dalla massa, e i suoi compagni di scuola di lui dicevano che era nato per non essere dimenticato. Purtroppo al suo desiderio di notorietà arrecò momentaneo danno il fatto che il padre, accusato di truffare i propri clienti, dovette fuggire nella sua terra di origine, le Filippine, lasciando la famiglia in notevoli difficoltà economiche. Cunanan, allora diciannovenne, lasciò la scuola e raggiunse il padre a Manila ma ne ritornò molto presto date le disagevoli condizioni in cui versava il genitore. All'inizio degli anni novanta, Cunanan era diventato una figura di spicco nel mondo gre di San Francisco, assumendo diverse identità Andrew De Silva, star di Hollywood, lieutenant commander Cummings, ufficiale navale di Yale, cenava nei più lussuosi ristoranti frequentati dal bel mondo, vestiva in maniera impeccabile con abiti firmati e costosissimi, beveva solo i più rinomati champagne. Era di compagnia gradevole, di facile comunicativa, vivace, colto. Ma tutti gli accompagnatori, pur amando la sua compagnia, deprecavano la sua insistenza ossessiva nel voler catturare l'attenzione e gli sguardi, il suo disperato e maniacale bisogno di mettersi in mostra, di provare di essere qualcuno. Nella realtà dei fatti, il giovane Andrew dipendeva totalmente dalla generosità dei suoi accompagnatori. La madre stessa definì il figlio una prostituta maschio d'alto bordo. Ma Kuna non era qualcosa di più di un comune gigolo. Era diverso, speciale, non tanto per la sua pur indiscutibile attrattiva fisica, quanto piuttosto per la sua personalità, il suo carisma, la sua intelligenza. E forse anche per il suo gusto per il sesso bizzarro. Durante l'autunno del 1996 accadde qualcosa che fece crullare lo sfavillante mondo del giovanotto. Alcuni testimoni parlano di un incontro tra Andrew e la droga, altri indicano una crisi nella sua relazione con il suo ultimo benefattore, un vecchio mercenate. Qualunque fosse il motivo, Kuna non passò da un giorno all'altro da una vita di lusso sfrenato, fatta di lussuosi ristoranti, di belle macchine, di abiti firmatissimi, a una squallida e disperata esistenza. Dimenticò le quotidiane cure a quel bel corpo che qualche agio gli aveva procurato, non frequentò più le palestre, niente più jogging né abiti eleganti in breve divenne trascurato e trasandato. Si lamentava di non riuscire più ad avere appuntamenti, rimpiangeva l'unica relazione perfetta della sua vita, quella con un affascinante architetto di Minneapolis, David Maxson, il quale però aveva preso le distanze da lui quando aveva cominciato a far uso pesante di droghe. Nel mese di aprile del 1997, Kuna non disse che si sarebbe trasferito a San Francisco. Diede una cena d'addio presso uno dei ristoranti più chic di San Diego, gustò nuovamente quelle portate costose e grondanti lusso, le ostriche, che tanto gli piacevano e che conferivano uno status symbol, dopodiché, in qualche modo, convinse la compagnia della sua carta di credito a permettere ulteriori acquisti e comprò un biglietto aereo di prima classe sola andata. Contrariamente a quanto affermato, la sua meta era Minneapolis. Devo occuparmi di alcune faccende personali rivelò a un amico. Quando Kuna non arrivò a Minneapolis, il suo ex David Maxson, lo portò fuori a cena e lo presentò ad alcuni amici che rimasero affascinati dal suo charme. Due noti dopo, il 27 aprile, Andrew invitò un amico di nome Jeffrey Traill nell'appartamento di Maxson. Contrastanti le versioni sui rapporti con il giovane Traill, c'è chi afferma che Jeffrey, ex ufficiale della Marina di San Diego, impiegato presso un'azienda di gas, recitasse il ruolo del fratello maggiore di Andrew, c'è chi invece sostiene che i due fossero stati amanti e che in seguito Traill si fosse legato proprio a Maxson. In base alle diverse ipotesi, ciò che accadde può essere stato originato da due cause. Secondo la prima teoria Traill avrebbe contrastato Kuna non per l'uso di droghe, disapprovandolo e questo avrebbe portato a uno scontro violento tra i due. In base alla seconda teoria Kuna non si era ingelosito per la tresca tra Traill e Madson e questo aveva fatto precipitare gli eventi. Comunque sia, la sera del 27 aprile poco prima delle 22, i vicini di Madson sentirono grida violente e alcuni colpi sonori provenire dall'appartamento dell'architetto. Due giorni dopo la polizia trovò il corpo di Jeffrey Traill avvolto in un tappeto nell'appartamento di Madson. Era stato ucciso con oltre due dozzine di colpi di martello alla testa. Giovedì primo maggio, Kuna non si recò con dei Madson presso un lago a circa 50 miglia da Minneapolis e qui, usando la pistola di Traill, sparò alla testa dell'ex amante e ne gettò il cadavere nel lago. Quando un pescatore lo ritrovò, Kuna non se ne era già andato con la jeep rossa della sua vittima. Tornò a Chicago dove, in qualche modo, riuscì a entrare in casa del miliardario 72enne e lì Milin. Non ci sono prove di precedente conoscenza o di una relazione tra i due, ma è probabile che Kuna non lo conoscesse di fama. Milin venne torturato. Kuna non gli avvolse la testa con nastro isolante lasciando solo due forelli per il naso, poi lo colpì ripetutamente con violenza con delle tenaglie e infine gli tagliò la testa con una sega da giardino. Prese la Lexus verde di Milin, dirigendosi verso Estapennisville, nel New Jersey, dove, con la pistola di Trail, uccise i custodi del cimitero, il 45enne William Reese, e fuggì nel suo pick-up rosso, una Chevy del 95. Era venerdì 9 maggio e nel giro di quattro giorni l'ex ragazzo dei party, si era guadagnato il diritto a entrare nei dieci uomini più ricercati dall'FBI. Kuna non poteva finalmente vedere la sua foto fissa sui manifesti di svariati stati. Fuggendo, approva la sua ultima destinazione. Miami Beach. Qui prende in affitto una stanza in un hotel chiamato Normandy Plaza, il 12 maggio. Il proprietario dell'albergo Roger Fallin lo descrive così. Un tipo tranquillo e gentile. Non ha mai ricevuto ospiti, non ha mai usato il telefono. Miriam Hernandez, cameriera al Normandy, dice di lui. Parlava sempre con tanta dolcezza, mi diceva grazie, per favore. Era sempre molto gentile. E Luigi Zagami, gestore della lavanderia vicino al Normandy, conferma. Era proprio una persona gentile, cortese e simpatica. Durante una sosta nel suo viaggio a Cuba, il noto stilista italiano Gianni Versace si era innamorato di South Beach e aveva acquistato una vecchia dimora, casa casuarina, e aveva speso 35 milioni di dollari per rinnovarla. La residenza in Ocean Drive occupava un posto speciale nel cuore di Gianni anche perché, lì, lo stilista si sentiva sicuro e tranquillo, tanto che non riteneva necessarie guardie del corpo né sistemi d'allarme. La mattina del 14 luglio alle 8.30, Gianni lascia casa a Casuarina e si dirige al New Café, come suo solito. Dopo aver sorseggiato il suo abituale caffè e letto i giornali, Versace rientra. Mentre sta aprendo il cancello di metallo della villa, un giovane in maglietta bianca e pantaloncini grigi compare dal nulla ed esplode due colpi alla testa dello stilista, che si accascia sui gradini della Casuarina. L'amico di Gianni, Antonio D'Amico, uscito dalla residenza al rumore degli spari, cerca di inseguire l'assassino che si volge e lo fronteggia con la calibro 40 spianata e gli intima di andarsene, ma stranamente non fa fuoco. Successivamente il killer si nasconde in un parcheggio sotterraneo nelle vicinanze. Ed è qua che gli investigatori trovano la kevi rossa rubata a RIS. Dentro l'auto ci sono i vestiti insanguinati dell'assassino e un passaporto USA con il nome di Philip Cunanan. Finalmente è giunta quella fama e quel successo che erano sempre stati la sua meta, la sua ossessione privata. Forse Cunanan e Versace si erano conosciuti a un party, ma le motivazioni di Cunanan per l'assassinio non sono da ricercare in una relazione personale. Versace impersonava tutto ciò che Cunanan aveva disperatamente desiderato e che, sapeva, non avrebbe mai ottenuto. Successo e celebrità mondiale. Cunanan voleva prendersi una rivincita nei confronti del mondo e, contemporaneamente, dimostrare che era speciale, uno da temere, uno che deteneva il potere di vita e di morte. Il 25 luglio fermando carriera, 72enne custode di una grande barca, appartenuta a Thorsten Remick porno imprenditore a Las Vegas, attraccata al porto ad appena due isolati dalla casa di Versace, entrando nel vascello si rende conto di un'intrusione. Si precipita all'esterno per chiamare la polizia e nel contempo sente un singolo sparo. In breve la polizia circonda tutta l'area. Dopo cinque ore passate ad aspettare, che cosa? Si chiedono in molti, le forze dell'ordine sparano all'interno dell'imbarcazione dei gas lacrimogeni, ma nessuno ne esce. Alle 21 gli svate entrano in azione. All'interno trovano Cunanan, morto, disteso supino con addosso solo i boxer. Si era sparato in bocca con la fidata calibro 40. Finita la storia, Cunanan entra nella leggenda dei serial killer. Obiettivo raggiunto. Lo spree killer, assassino compulsivo, commette omicidi di due o più persone in un lasso di tempo molto breve, in luoghi differenti però contigui in modo che gli omicidi confluiscano in un unico evento, come se egli fosse stato colto da raptus. Le vittime differiscono le une dalle altre e anche i metodi di uccisione. L'assassino non cerca di nascondere la propria identità e spessissimo cova rabbia, frustrazione e rancore repressi. Desidera porre fine alla propria vita insoddisfacente ma prima desidera vendicarsi del mondo e infliggere agli altri il proprio dolore. Lo spree killer termina la carriera con un suicidio. Cunanan in gioventù vedeva davanti a sé un futuro dorato, persona di grandi speranze non riuscì mai a emergere in alcun modo. Le sue relazioni erano superficiali, i suoi soldi provenivano solo dagli amorevoli papà che sapeva deliziare. All'ultimo abbandono, balzò con forza disperatamente evidente ai suoi occhi l'inconsistenza della sua vita, la sua totale mancanza di potere o status. Così, quando in un eccesso di gelosia favorita dalle droghe uccise Traill, Cunanan capì che la sua vita era finita. Da qui il desiderio di far finire anche altre vite e, per ultima, la propria. Scritto da Pierangela Elio Gabalo Trasformato in audiolibro dall'eresiarca Grazie per l'ascolto. Grazie a tutti.